voci della chiesa iblea un programma della redazione di radio caris in blu ragusa un caro saluto a tutti i radio ascoltatori a tutte le radio ascoltatrici da denise arceri oggi abbiamo il piacere di avere studio don francesco mallemi parroco di maria santissima annunziate san giuseppe a giarratana con lui parleremo proprio della visita pastorale del nostro vescovo monsignor giuseppe la placa a giarratana che si è svolta dal 10 al 17 dicembre bentrovato grazie dell'invito padre mallemi innanzitutto come si era preparata la comunità a vivere questo momento è stato un periodo di fermento in parrocchia la comunità si è preparata liturgicamente attraverso dei momenti di preghiera e poi i due catechesi che sono state tenute da padre pippo di corrado che è docente di patologia proprio sulla figura del vescovo il senso della visita pastorale e quindi anche questo è stato un momento importante in cui la comunità ha compreso ancora di più quello che stavamo per vivere e poi un po tutto il fermento nell'accoglienza nell'organizzare anche proprio la visita pastorale nei vari giorni nel visitare sia gli ammalati sia incontrare i vari gruppi sia la casa di riposo le varie aziende questo ha creato molto molto entusiasmo sia all'interno della comunità che all'interno proprio del paese che anche se è piccolo ma è una comunità molto calorosa e accogliente entrambi un po più nello specifico nel vivo del racconto della visita pastorale una settimana come dicevi tu ricca di tanti momenti significativi raccontaci proprio nello specifico i sentimenti che hanno animato questa settimana come ti dicevo già prima erano sentimenti di gioia di attesa ma anche di grande accoglienza accoglienza innanzitutto da parte del vescovo che ha avuto questo atteggiamento di grande come dire semplicità ma anche di grande umanità cioè il commento che spesso emergeva da tutti era che bello vedere un vescovo così vicino a noi gli altri vescovi erano un po come dire più distanti e lui invece era molto alla mano volontariamente si fermava con le persone li andava a salutare a dare una parola una battuta a farsi una fotografia proprio per creare un po questo senso di vicinanza e questo ha creato proprio all'interno della comunità anche proprio tanta gioia infatti comunque tutti i momenti sono stati molto partecipati sin dalla mattina che c'era la preghiera delle lodi insieme con il vescovo a tutti i vari momenti che poi durante la settimana si sono susseguiti la comunità ha partecipato con grande gioia e ne ha approfittato anche poi per come dire dialogare di più col vescovo hai parlato di gioia della grande vicinanza che vi ha trasmesso il vescovo ma anche hai detto più volte che questa visita vi ha fatto capire realmente cosa significa essere chiese in uscita come cercherete di far tesoro degli insegnamenti del vescovo e cosa rimarrà di questa visita quali sono i segni profondi che vi ha lasciato innanzitutto un po imitare questo stile così di prossimità immediata di accoglienza di dialogo con tutti senza fare differenze non si sottraeva mai quando gli diceva eccellenza dobbiamo passare da questa parte che ancora c'è questa persona che la vuole incontrare subito andiamo siamo andati nei protestanti anche in alcune aziende e abbiamo parlato con tutti quindi questo atteggiamento proprio di uscire fuori dalla chiesa per le strade andare lì sui posti di lavoro è stata una bella testimonianza che ha fatto riflettere un po tutta la comunità sul fatto che la fede fa proprio condivisa a partire dalle relazioni questa penso che sia la cosa più bella che c'è rimasta da questa visita pastorale c'è qualche indicazione specifica che vi ha formito il vescovo proprio per la vostra comunità innanzitutto questo atteggiamento di grande accoglienza sempre con tutti cercare di entrare sempre in dialogo il cercare anche di affrontare le difficoltà con un atteggiamento di collaborazione se c'è un problema insieme si cerca di capire qual è la difficoltà e si cerca poi di trovare la soluzione ma soprattutto lui ha stimolato molto i laici a essere parte attiva nella comunità anche per il fatto che essendo io da solo come sacerdote non possa arrivare a tutto quindi lui sottolineava molto il fatto che il laico deve riscoprire anche il suo ruolo all'interno della comunità essere parte attiva essere collaboratore ma anche essere testimone su questo lui ci è ritornato molte volte a sottolineare proprio l'importanza del laicato all'interno della comunità e invece per te che guidi queste comunità come parco cosa significa farlo con semplicità di cuore come ci ricorda sempre il nostro vescovo mantenere questo stile di umanità cioè ho notato che lui puntava tutto sulle relazioni sul creare immediatamente una relazione un dialogo e far sentire l'altro accolto e quindi quello che mi porto dentro un po è questa accoglienza immediata ma anche questa capacità di andare alla ricerca delle pecore perdute siamo andati fino alle campagne c'è la foto dove eravamo in un terreno e lui andava ovunque mi è rimasto questo il fatto di non sottrarsi mai alla richiesta di qualcuno che voleva incontrarlo o cercarlo ringrazio padre francesco mallemi per essere stato con noi grazie grazie a voi salute ringrazio tutti i radioscoltatori e le radioscoltatrici per averci seguito a presto denise arciari avete ascoltato voci della chiesa iblea un programma della redazione di radio caris in blu ragusa